Musica 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 Umar Ibn Khattab عوظ باللہ الصمیل اعلم الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے قوانین ہرگز ہرگز چینج نہیں ہوتے بدلتے نہیں ہیں لانتاجیدہ لسمی اللہ تبدیلہ اللہ کے قوانین چینج نہیں ہوتے بدلتے نہیں ہیں اب یہاں پر ایک سوال سامنے آیا ہے افس ہوتا ہے کہ امیر المومنین che schiapponi schiapponi che schiapponi schiapponi qui schiapponi che spavoni io ricon chiuso che atto non 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 no non 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 ma è qui? Il cioè di sottile ame Kalsum e una una ma di bèti è e una amica di nato è una al-resul di sia è una al-resul non è non è una al-resul una al-resul con una gulam non è è un'escalato ora è un'escalato è un'escalato con l'amore grazie a tutti 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 grazie a tutti